Ciao bentornati al mio canale Francesco Franceschini, vorrei suggerirvi la lettura di un altro libro importante oggi. È un libro breve di appena 80 pagine che però mi è rimasto dentro e ha avuto la capacità di fiorire e quindi di rimanere all'interno della mia anima dove lo ospito con molto piacere. Sto parlando di appunti sul dolore della scrittrice nigeriana Kima Mandan Gozzi Adichie, nata nel 1977 e considerata nel 2015 da Time una delle 100 persone più influenti al mondo. La storia è la storia di un lutto, la perdita del padre, il racconto di una separazione improvvisa. Il padre non era malato, si è spento quasi improvvisamente e lei, la figlia, ha saputo la notizia quando ormai da anni si era trasferita in America. Il fatto avviene durante la pandemia di covid per cui lei non può neanche tornare in Nigeria per il funerale, non può essere vicino ai suoi familiari e questo le crea una serie di problemi anche dal punto di vista psicologico e qualche pentimento di natura morale che lei racconta in questo libro che non è un romanzo e non è naturalmente neanche un saggio ma è una specie di diario, di disamina dei sentimenti. Lei passa in rassegna i momenti vissuti da ragazzina con suo padre, i piccoli insegnamenti quotidiani che dice sono più importanti delle grandi teorie fumose e poi studiando il comportamento del suo vecchio genitore ha appreso tante cose sulla vita, ha imparato a fare tanti piccoli gesti che poi le sono serviti per acquistare stima nei confronti degli altri. È un libro che racconta anche la ritualità dei funerali in Nigeria, racconta anche tutto quell'insieme di cerimonie che a lei, ormai calata nella mentalità occidentale e un po' anche futile e capitalistica, sfuggono un po', si è un po' separata da quel tipo di cultura e questo è un altro motivo di dispiacere. Vive insomma fra due mondi e il suo mondo di origine, l'Africa, la Nigeria, le torna prepotentemente addosso nel momento del lutto. È un libro anche pieno di dolcezza che tutti quelli che hanno perso dei genitori anche recentemente possono leggere e possono naturalmente trarre motivo di commozione. Una commozione però consolatoria, perché poi il lutto diventa universale e quindi diventa condiviso. C'è un brano bello di questo libro, tanti ce ne sono, ma ne ho scelto uno a pagina 48, quando lei, la scrittrice, definisce in questo modo suo padre. Lo definisce in tanti modi, era anche in qualche modo un poeta, un cantastorie, ma dice non era un materialista, il che, scrive, non sarebbe così straordinario se non fosse stato nigeriano e non fosse vissuto in Nigeria, un paese dominato da una ostinata avidità, dalla sfrenata tendenza all'accumulo a tutti i livelli. Ne siamo tutti contaminati, seppur in maniera diversa, lui solo era completamente immune. Apprezzavo il suo senso del dovere, c'era qualcosa di accomodante nella sua natura, come se avesse un'anima dilatabile. Sapeva incassare le brutte notizie, sapeva negoziare, scendere a patti, prendere decisioni, stabilire regole, tenere unita la famiglia. Molto dipendeva dall'essere il primo genito di genitori Igbo, gli Igbo sono un'etnia nigeriana piuttosto nutrita, circa il 17% del paese, e dall'essersi dimostrato all'altezza delle loro aspettative e volontà. Riusciva a dare un senso profondo anche alle cose più semplici che diceva, era un uomo buono, un buon padre, mi piace definirlo un uomo gentile e un gentiluovo. È un libro quindi prezioso, un libricino tascabile, un libricino che si porta dietro come un breviario, come un tempo si portavano le rime di Petrarca, il canzoniere, e come quel libro l'antico di 700 anni fa, ogni tanto andrebbe risfogliato per capire meglio un po' il senso della vita che è legato soprattutto ai nostri affetti. Io in descrizione vi lascio oggi due cose, un video di un altro canale che mi sembra molto interessante, il canale è l'arte di essere donna e il video è stato fatto su un altro libro di questa scrittrice nigeriana che è il libro dovremmo essere tutti femministi. Ascoltate con attenzione anche quello che si dice in quel video perché poi magari vi viene voglia di leggere anche quell'altro libro. E poi vi lascio anche un mio post del blog dedicato ai cantastori africani, i cosiddetti griot che sono ancora una volta i portatori della cultura di quel grande continente così vilipeso da noi e che hanno anche la capacità di raccontarci ancora delle storie meravigliose. Uno di loro, uno di questi griot io ho conosciuto un anno fa sulla spiaggia di Cattolica e l'ho raccontato nel post. Mi fermo, vi ringrazio, se vi va iscrivetevi a questo canale e poi ditemi che cosa ne pensate di questo bel volume, piccolo ma prezioso.